Il comune di Paupesi nel Beneventano da oggi ha un record non molto apprezzato dagli utenti della strada. 300.000 euro di incasso grazie agli autovelox lungo il territorio comunale sulla strada Telesina, una cifra maturata nei soli primi sei mesi del 2016. La notizia viene confermata dal SIOP che è in pratica un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria Generale dello Stato, la Banca d'Italia e l'Istat. È davvero contro ogni regola se gli autovelox dovrebbero servire a prevenire gli incidenti, ma i comuni, pur di fare cassa, hanno come primo obiettivo quello di deprimere il fenomeno. Il comune di Paupesi ne è la prova e pensare che Benevento, città di provincia, ha totalizzato sempre con gli autovelox appena 40.000 euro. Dalla Telesina è tutto, Lorenzo Applauso per casertasera.it